Buonasera popolo di Facebook. Allora l'estate è finita qui a Gianola. Ieri abbiamo fatto l'ultima festa, ci siamo divertiti il compleanno di Rossella e abbiamo dato la chiusura all'estate 2015 a Gianola, vicino Foglia. Un po' di casino a Gianola è successo, un po' a Foglia, niente di che. Un destro e un sinistro ma niente di che. Allora ora vi faccio salutare tutti i componenti della casa. A partire da Antonio. Dicci qualcosa a popolo. Che vuoi dire questa vacanza? Com'è stata questa vacanza? Ti è piaciuta? Ciro, vai Ciro. Dicci qualcosa a popolo. Ti è piaciuta questa vacanza? Vuoi salutare a qualcuno? Allora salutiamo a Carlo, Carlo vai. Ciao ragazzi è stata una bellissima vacanza. Maria Gravinacca, Maria Grazia, Maria Grazia. C'è tutto anche la villetta, facciamo vedere. Una grande vacanza. Andiamo a salutare i componenti. Maria Gravinacca dicci qualcosa. Andiamo a salutare la Caposale. Aspetta un attimo, aspetta. E stiamo andando sopra. Ora siamo a Salento nella villetta di Enzo. Siamo a Salento tutti insieme. Andiamo a salutare la Caposale. Vediamo se c'è Daniela. Daniela. Andiamo. Ah qua c'è Agata. Ciao Agata. Gli vuoi dire qualcosa? Come è stata questa vacanza? Come è stata questa vacanza? Gli vuoi dire qualcosa? Ti stai preparando la valigia per andare via. Dai. Questa è la valigia di Agata. Un bacione al tuo fidanzato e a tutti. Ci rivedremo tutti insieme? Sì. Va bene? Un bacione. Ciao. Ciao. E salutiamo anche la nostra Giusy. Giusy, diti qualcosa a popolo. Dai. Una vacanza bellissima. Io direi qualcosa ai tuoi fan se vuoi conoscere qualche ragazza. Sicuro? Il nostro è una fidanzata. La ragazza è qualcosa. Ecco. Ti è piaciuto giusto questa vacanza? Quella ho veduto alcune persone. Ecco si tiene la caposala. La numero uno. La padrone. La stella. Ehi. 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 Diggi qualcosa. Diggi qualcosa al popolo. Dai. Ho fatto la vacanza meravigliosa. La più bella. Bellissima. L'estate 2015. Ciao. 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 Ragazzi noi vi saluto. La pranzata è finita. Domani si torna con le pezze. Ok. Dopo viene il capo dei capi. Lo salutiamo. L'ultima parola a lui. Ragazzi. A presto. A chiatto. E' per tutta la gente che ci fa male. Non si? Sì. La faccia vostro. Sì.